Gli ambientalisti lo definiscono decreto salva-ilva, al loro giudizio più mirato a salvaguardare la produzione che l'ambiente. I parlamentari ed i consiglieri del PD di Taranto lo chiamano invece decreto salva-taranto, giudicandolo idoneo a conciliare produzione, ambiente e salute. Qualche ora fa il portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, ha parlato di bonifica farsa, anche per mancanza di fondi. Il parlamentare Michele Pelillo parla invece di decreto che ha stravolto positivamente la realtà, partendo proprio dal capitolo essenziale, quello dei fondi da investire, pari a 3 miliardi di euro. Di fatto il decreto in questione è passato all'approvazione della Camera e così com'è, senza possibilità di modifiche, sarà approvato dal Senato in settimana prossima e poi pubblicato per diventare operativo. Ascoltiamo l'onorevole Michele Pelillo. Per la prima volta la nostra comunità a Taranto è messa nelle condizioni dallo Stato, dopo 50 anni, di provare a fare una cosa che non abbiamo mai potuto fare, provare ad accettare la sfida, la sfida di ambientalizzare la grande industria, la più grande industria d'Italia, ogni tanto è meglio ricordarlo, con la salute e la vita di chi lavora nell'industria e di chi abita intorno all'industria.